Buone notizie per i fan della All Elite Wrestling. Quello che vedete è uno screen di una storia odierna di Instagram del mio ex collega Salvatore Torrisi che oggi la commenta su Sky Sports, che ci informa che l'editore ha rinnovato la sua partnership con la Lega anche per il 2024, dunque one more year. Salvatore cita anche Sky prima fila, dunque è ragionevole credere che la proroga, oltre ai programmi settimanali, coinvolga pure gli speciali in pay per view. Ad ogni modo, come scrive, sarà lui a diramare domani, in telecronaca, tutti i dettagli certi e sicuri, e credo che poi, di rimando, li pubblichi anche sui suoi social. Come detto, è proprio un'ottima news, che conferma per i prossimi 12 mesi una pluralità di offerta nel nostro paese. Poi, chiaro, io sono di parte e vi devo invogliare a guardare i programmi WWE in onda su DMAX, ma questo premesso, che ci siano alternative complementari, è sempre una buona cosa per l'intero movimento della nostra nazione.